Ciao, per la rubrica stranezza nel mondo andiamo in Tunisia dove è stato, diciamo, messo a catalogo di un ristorante il piatto più colossale. Questo piatto più colossale è una roba, una schifezza immonda che riguarda un cammello, proprio un cammello che come fosse un po' l'arrosto, diciamo un cammello ripieno intero. Il cammello ripieno di agnello, agnello a sua volta ripieno di polli, polli a loro volta ripieni di pesce. Questo è, diciamo, a listino il piatto più colossale, direi anche più schifoso, che si possa trovare in circolazione in Tunisia. Bene, per le stranezze del mondo è tutto, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo e ti ricordo che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Ciao!